Raga, io la prima non l'ho streamata perché ho giocato su PS4 in chat con Simo e forse è stato anche un bene perché non vi voglio raccontare com'è andata, voglio solo lasciarvi qua un dato, guardatelo e poi ditemi voi. Raga, ho fatto una Rivals di riscaldamento perché su PS5 non gioco mai online, gioco sempre su PS4, infatti tutte le qualifiche le ho fatte sulla 4 e più che altro su PS5 gioco molto offline, è un gioco totalmente diverso, tanto qua pacchetti di merda, chi è? Mamma mia. La cosa più utile di questo pacchetto è questa maglia del Milan, basta. E raga, come prima userei questa formazione qua che comunque non è male, un 85 con 27 di intesa, l'alternativa sarebbe questa che è un pochino più conservativa, un 4-4-1-1, poi siamo sempre in tempo a cambiare raga, mi piace a male raga. E raga, come se? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anthony Grisman e Vinicius Junior, ragazzi, è persa. Ma quanto si è prevedibile? No! Grande Magic! A me queste cose, ragazzi, mi mandano un baste, proprio. Eldor! Tra le linee! Ovviamente è fuori, raga. Raga, non so, ve la voglio buttare lì quest'ora e graverà molto sull'andamento della partita. Garantito. Ecco il go, mamma mia, madonna, ma che difesa di merda, raga, ma che difesa di merda, raga, ma si può! Ma, no, 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 raga, ascoltate, un attimo. Io queste cose non le voglio vedere. Cioè, raga, ma siamo tornati ai livelli di FIFA 21 qui. Luigi! Andiamo, vai! Baloo! Vai! Cinque tiri a quattro. Stiamo perdendo. Anche qua vorrei sapere... Come cazzo è tirato? Come cazzo è tirato, Lucio? Come cazzo è tirato? Namo, Timo, meno male ci sei te. Lucio! Lucio, ho preso il controtempo! No, ci voglio credere, raga! Dentro! Mamma mia, ma che sfiga che è, oh! Mamma mia, Robertson, però! Robertson, però! Robertson, però! Robertson, però! Robertson, però! Robertson! 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 Che merda che sei! Partita dominata, raga! Dominata! Dominata! e un'altra volta a prenderla nel culo! Guarda che gol! Guarda che gol di merda che mi è toccato prendere! Ci avessi preso un bel gol! Un gol di merda ho preso! Due gol con Vinicius Junior e un gol... Tre gol con Vinicius Junior! È incredibile, raga! Tre gol con Vinicius Junior e uno con Anthony! Non è possibile! Non è possibile, ragazzi! Non è possibile! E io come l'avevo detto, raga! Quell'errore di Shomurodov peserà sulla partita! Peserà! No, ma è lunga! Ma che dici? E io l'ho detto! Peserà! 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 Quell'errore lì! Perché peserà! Perché peserà! E ha pesato! Come si ha pesato! 10 tiri a 7! 10 tiri 2 gol! Lui 7 tiri 4 gol! 3 partite! 2 sconfitte! Sempre la maggior parte dei tiri sono miei! 41 tiri in 3 partite! 8 gol! Ecco di cos'è capace sto gioco! Ecco della merda che è capace sto gioco! S'è scansato Muriel! Palla nel corridoio per lui! E si scansa! Si scansa, raga! Si scansa! Si scansa sto bastardo! Si scansa, Muriel! Eccolo! Cosa? Questo gol non volevo farlo, giuro! Eccola la palla per il kick of glitch! Il kick of glitch! Ma meritato! Meritato! Meritato direi il kick of glitch! Meritato! Meritato! Dai! Meritato! C'è bellissimo, regà! Prendo adesso prendo il gol! Prendo il gol! Prendo il gol! Prendo il gol da Holland! Prendo il gol da Holland! Perché ho fatto un piccolo errore sul calcio d'angolo! Ragazzi che frustrazione! Quando sbagliano gli altri, rimediano! Quando sbaglio io è un grosso cazzo che mi va nel culo! Sei tiri a quattro! E non dite che merito questo risultato perché non ci credo! No! No! Bello! Due a zero! Tre a due! Sbaglio io in difesa! Mi becco! Quarantaquattro gol! Sbagliano loro! Niente! Rimediano! È incredibile! Rimediano sempre! Perché l'hai data a Werner? Perché l'hai data a Werner? No! No! Perché l'hai data a Werner? Coglione! Perché l'hai data a Werner? Perché l'hai data a Werner? Perché l'hai data a Werner? Mi devi spiegare il motivo di alcune scelte di merda che fai! Sto gioco del cazzo! Eravamo due a zero! Io non mi... Non mi capacito, raga! Non mi capacito! Non era per lui! Non era per lui! Era per Werner! Prima non la dovevi dare a Werner e gliela dai! Adesso la dovevi dare a Werner e non gliela dai! Ma come cazzo funziona? Di merda sto gioco! Come cazzo funziona? Di merda! Di merda! E non ti chiedo l'elite! Non ti chiedo l'oro! Non ti chiedo di fare almeno il 50% delle win! Ti chiedo solo la riqualificazione! Non ti sto chiedendo altro! Il mio obiettivo è quello! Guarda! C'è la parata giustamente! C'è la parata! C'è la parata di Oris! Di che? A chi cazzo è? L'ha ben fatta sbagliare apposta! L'ha fatta sbagliare apposta ragazzi! Adesso non mi stupirei prendersi il 4 a 2! State a vedere! Lo sapevo! Lo sapevo! E c'è anche il rosa per Skriniar! E quanto cazzo lo sapevo! E quanto lo sapevo! Ma perché tutte le partite sono uguali? Almeno la soddisfazione di averti parato il rigore, coglione! Tutte le partite fottutamente uguali! Uguali! 10 tiri, 2 gol! Totale 51 tiri, 10 gol! Continuate così! Continuate così! Iei di merda! Continuate così! Continuateci! Che state facendo veramente un gran gioco! Sappiatelo! 3 sconfitte! Iper immeritate! Però poi la vittoria me la fa sudare 5 a 4 su una partita che ho dominato! Avete capito bene qual è la cosa veramente schifosa di questo gioco! Adesso mi tocca fare una squad bottles per impiazzare Skriniar e quittarla! Grazie gioco di merda! Tutte sconfitte di 1-2 gol! Mi vuoi far perdere? Mettimene uno che mi umilia cazzo! Che mi umilia! Voglio perdere perché sono scarso! Mettetemi uno forte che mi fa 6-7 a 1! Dove non c'è partita? Allora lì si accetto la sconfitta! Gli stringo la mano! Se non quitto la partita è fine! E se ne gioco un'altra! Ma non mi puoi far giocare così! Tutte le partite! Tutte le partite a fare capanna nell'area avversaria! E poi perdere! C'ha un Icon! C'ha un Icon e c'ha Leao! Che adesso fa gol! Ma come sei divertente! Ma come sei divertente! Mamma mia! Mamma mia come sei divertente! Ancora! Ancora loro fanno un errore difensivo! E ne escono! Fanno un errore difensivo! E comunque palla loro! Iconi guardate la palla per Muriel! Palo! Palo! La volta che ci arriva prende il palo ragazzi! Prende il palo! Sì! Prende il palo! Beren mi corri più veloce da Alexander Arnold! No! No! Perché c'è il difensore centrale! Fenomeno Martinez! Gli è ritornata addosso! E se vuoi provare a fare lo stop? Nulla! Sette tiri! Zero gol! Continuiamo a fare schifo! Continuiamo gioco di merda a fare schifo! Continuiamo! C'è un muro dove! Godo! 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 Kick-off glitch! Kick-off glitch! Minion! Kick-off glitch! Kick-off glitch! Quanti kick-off glitch avrò preso? Regà! Quanti kick-off glitch avrò preso? Quattro tutti! Godo! Lucio! Sergente! Marcolino! Martimbo! Godo! Lucio! Lucio! Ma me fai insultare testa di minchia? Oh! Stiamo! Savio! 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 E' il cavo! E' il namo Savio! Cazzo! Sudata ragazzo! Partita! Che sudata! Che sudata! La risolve Savio! Savio Mané! 15 tiri! 4 gol! Ragazzi! Nonostante la vittoria il rapporto tiri-goal si alza eh! 66 tiri! 14 gol! E' il